giurificala ed esauriscila, secondo la sua volontà per Cristo nostro Signore. Le ore che verranno raccolte in questa domenica nella nostra Dioce e anche in altre pietre andranno a favore dei propri ucraici, in modo tale qualche modo da poter sofferenze e a tempo stesso regalare un modo in pace. Grazie a tutti e a tutti e a tutti e a tutti. benedetto sei tu figlio del tuo universo dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del nostro lavoro lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna benedetto sei tu figlio del tuo universo dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino frutto della vita e del nostro lavoro lo presentiamo a te perché diventi per noi mi manda di salvezza benedetto sei tu signor benedetto sei tu signor no 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 isteri